questione fca e prestiti e facciamo prima una piccola digressione sul mercato automobilistico mercato automobilistico che negli ultimi anni ha avuto una certa recessione una piccola recessione in più ci sono una serie di dinamiche all'interno di questo mercato automobilistico che rendono questo mercato molto particolare perché sta avvenendo una transizione di tecnologia da un motore a combustione interna a un motore elettrico e questo comporta tutta una serie di cambiamenti tecnologici e di cambiamenti di metodi di produzione non banali non indifferenti anche perché il settore auto è uno dei settori industriali più importanti all'interno delle economie avanzate e condurre questi cambiamenti da una tecnologia molto complessa come quello del motore a combustione interna una tecnologia molto più semplice come quella del motore elettrico comporta anche probabilmente potrebbe comportare in futuro un ridimensionamento di queste imprese cosa che ovviamente comporterebbe una riduzione di posti di lavoro solo che essendo questo mercato uno dei più importanti all'interno delle economie avanzate c'è anche la politica di mezzo che non vuole vuole impedire questa riduzione di personale cosa che probabilmente avverrà comunque questo in generale il mercato mondiale nel mercato europeo c'è da specificare che fca è divisa in fca nv che è la holding e che ha in sé fca italy che ha sede a torino e che gestisce che ha in possesso i brand fiat lancia alfa romeo eccetera che ha sede in italia e poi c'è fca america che opera nel mercato americano gran parte dei ricavi provenienti da fca group provengono da fca america perché fca è messa molto bene all'interno del mercato americano mentre fca italy tende ad avere più difficoltà all'interno del mercato europeo con una piccola presenza in realtà nei mercati extra italiani ma all'interno dell'unione europea mentre nel mercato interno italiano ha una quota di mercato di circa il 12 per cento ma comunque non è tantissima roba comunque ora il mercato ripeto stava stava si stava contraendo ma comunque stava continuando la sua produzione fino a quando non è arrivato il coronavirus che ha impedito soprattutto in italia la produzione mandando praticamente il mercato a terra con un fatturato praticamente nullo da parte delle case automobilistiche almeno per quanto riguarda il contesto italiano poi dipende perché ad esempio la germania ha avuto meno conseguenze in questo senso insomma tutti i paesi poi sono una storia a parte però in italia ha fatturato praticamente zero fca per questo ha chiesto un aiuto a una banca privata con garanzia pubblica ora garanzia pubblica quindi il governo tramite il decreto liquidità ha varato una serie di riforme per garantire finanziamenti e prestiti alle imprese in vario modo alle piccole e le medie imprese ha predisposto alcuni alcuni finanziamenti alcune pratiche finanziarie alcuni prestiti dalle imprese che vogliono fare export ne ha fatti altri e alle grandi imprese ha garantito il supporto della sage che vediamo proprio qui tramite la fonte quindi come funziona questo questo prestito lo possiamo leggere qui si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di sage sui finanziamenti bancari accordate le seguenti condizioni durata non superiore sei anni impresa beneficiare non incluse nelle categorie delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate importo garantito non superiore al maggiore fra il 25 per cento del fatturato anno dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale e in più impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi o acquisto di azioni proprie con riferimento al periodo intercorrente dal data 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre di quest'anno e più ci sono altre condizioni che sono qui però noi ci interessa principalmente questo quindi lo stato cosa dice se tu sei una grande impresa e rispetti queste condizioni la sage può darti una garanzia su un prestito privato che è proprio quello che sta facendo fca e qui andiamo al comunicato di fca che sarebbe questo poi vi lascio in descrizione tutte le fonti fca italy spa conferma di aver avviato una procedura con il governo italiano per l'ottimento per l'ottenimento di una garanzia da parte di sage per quanto riguarda il prestito nei confronti di una banca privata cioè intesa san paolo ok qua ci dice ci dice anche il comunicato stampa di fca che questa linea di credito che chiederà intesa san paolo è destinata esclusivamente le attività italiane del gruppo fca e al sostegno della filiera dell'automotive in italia composto da circa 10.000 piccole e medie imprese che come abbiamo detto hanno avuto una forte crisi perché il mercato è praticamente morto in questi ultimi due mesi e come specifichiamo fca italy spa è una società che ha la sede a torino in italia quindi operante in italia poi c'è la fca holding che ha sede legale in olanda e sede fiscale in regno unito ma fca italy ha sede in italia e per questo può accedere a questo tipo di finanziamento privato ma con garanzie pubbliche e in più ovviamente se chiede questa cosa si impegnerà anche fca italy che ha come presidente gorlier il fatto di non ridistribuire dividendi all'interno di fca italy ovviamente perché ovviamente deve rispettare le condizioni che gli ha dato il governo ora anche qui guardiamo un attimo anche qui dopo ci torniamo da alcune caratteristiche però questo è anche il comunicato stampa dei sindacati in particolare FIM e CISL che supportano proprio l'azione del dfca quello cioè di sostenere la filiera produttiva e con un comunicato anche abbastanza polemico infatti sottolineano l'assenza di misure per il sostegno al mercato dell'auto si quantificano circa 0 euro su 55 miliardi del decreto liquidità e poi fa anche una polemica riguardo alle sovvenzioni per l'acquisto di monopattini e biciclette elettrici ma non sul fatto di aver sostenuto il settore dell'auto che comunque anche lui si sta trasformando in un settore elettrico cosa che hanno fatto in Francia ma in Francia comunque è un esempio caratteristico perché lo stato francese ha quote societari all'interno di Renault e di PSA che è l'altra società francese che ha Citroen eccetera eccetera in Germania si sta discutendo se lo stato dovrà intervenire o meno perché lì la situazione è diversa perché il mercato dell'auto ha subito una contrazione inferiore rispetto a quanto hanno visto l'Italia o la Francia quindi in Germania probabilmente avverranno ma ancora si sta discutendo come. Il punto è che c'è una questione retorica sul fatto che a FCA non paga le tasse questa non è un'affermazione totalmente vera primo perché abbiamo visto che FCA Italy ha sede in Italia e quindi tutte le operazioni di FCA Italy sono soggette ai diritti tributari italiani e in più comunque anche se non ci fosse FCA Italy ma un'altra ma FCA Holding comunque tutte le tasse riguardanti il lavoro e gli impianti di produzione li paga in Italia cioè ad esempio se voi chiedete a un dipendente di FCA la busta paga vedrete che il dipendente pagherà l'IMS, pagherà l'IRPEF, tutti gli acquisti di FCA sono soggetti ad IVA italiana, tutte le tasse sugli immobili sono pagate allo Stato italiano quindi comunque una grande fetta di tasse vengono pagate in Italia ripeto IRPEF, IVA, IMS, INAIL, IMU, TASI eccetera 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 sono pagate allo Stato in realtà quindi quando si dice non pagano le tasse è molto generico in realtà non vengono pagate le tasse sugli utili dell'impresa e sui dividendi della società ma in realtà il core business viene pagato cosa che magari potrebbe non accadere ad un Facebook ad esempio che non ha delle strutture materiali in Italia o comunque ne ha molto poche e quindi non possono essere paragonati una società come Facebook a una società come FCA che ha tutti gli impianti, ha migliaia e migliaia di dipendenti, ha più di 355 mila dipendenti in Italia e se contiamo anche tutta la filiera arriviamo fino a 400 mila dipendenti. In più si è impegnata anche nel suo piano di produzione in Italia portando dal Messico la produzione di Jeep Compass che prima era a Messico e adesso sta avvenendo a Melfi, nella città di Melfi e in più ha aperto uno stabilimento che prima era vuoto a Torino andando a produrre la 500 elettrica direttamente a Torino. Cosa che in realtà la 500 prima era prodotta solo in Polonia. Quindi diciamo che sostanzialmente le condizioni secondo me sono per far sì che il prestito venga fornito anche perché FCA non solo rispetta i patti stabiliti dal governo per quanto riguarda l'applicabilità del decreto liquidità quindi è la FCA nel richiedere il prestito è totalmente in regola ma non solo comunque si è impegnata ovviamente a investire questi soldi nel comparto nella filiera produttiva che comporta concessionari, fornitori, dipendenti ovviamente eccetera eccetera vediamo qui no il settore dell'industria italiana vale il 6,2% del PIL italiano e il 7% del settore manifatturiero. In più ci riferisce FCA che tutta la sua filiera di piccole e medie imprese sta avendo difficoltà ad accedere ai fondi distanziati dal governo per le loro attività e quindi FCA cosa ha detto? Ok invece che tutte le imprese della filiera aspettano di ricevere i fondi dallo Stato li prendo io questi soldi tramite un prestito da Banca Intesa San Paolo e poi li redistribuisco all'interno della mia filiera quindi dando finanziamenti o sostenendo a fondo perduto queste imprese come appunto concessionari, piccoli imprenditori, fornitori, società di consulenza eccetera eccetera Di nuovo anche qui nel comunicato viene sottolineato ci sono 55.000 persone all'interno degli stabilimenti in maniera diretta 55.000 persone tra cui dipendenti amministrativi, persone all'interno degli impianti di manifatturieri eccetera eccetera e se si contano tutta la filiera arriviamo a più di 300.000 persone La polemica quindi sostanzialmente la polemica che FCA Italia non paga le tasse in Italia quindi non ha diritto ai soldi è sbagliata perché gran parte delle tasse in realtà vengono pagate in Italia e FCA Italia ha sede in Italia e quindi non sussiste vediamo come effettivamente ha un bisogno di un aiuto perché per due mesi ha fatturato praticamente 0 euro e comunque sta andando a supportare non le proprie finanze ma le finanze della propria filiera Ora c'è stato anche e poi vado a concludere questo argomento c'è stato anche la polemica sul fatto che FCA l'anno prossimo distribuirà un dividendo di 5 miliardi Ora questo dividendo è dovuto a una fusione tra FCA e PSA avvenuta ad ottobre del 2019 che appunto tramite gli accordi si dovevano fondere queste due società per creare una nuova società e per creare questa nuova società si sarebbero distribuiti dei dividendi eccezionali, straordinari che non erano previsti nel bilancio degli anni precedenti e quindi qual è la critica che muovono alcuni? La critica è ok invece di creare dei dividendi per la fusione utilizzate questi soldi dando questi soldi a FCA Italy che poi li distribuirà all'interno della filiera Innanzitutto una società tendenzialmente può fare quello che vuole e se le leggi, questa non è una critica, cioè proprio i fatti una società privata può fare quello che vuole e se le leggi consentono a questa società di richiedere un prestito non vedo perché non possa farlo e fare anche altre cose come ad esempio distribuire i dividendi quindi al massimo dovrebbero stare più attenti i governi a scrivere meglio le leggi ma tolto ciò, il fatto dei dividendi appunto come abbiamo detto prima era una situazione nella quale si era creata ad ottobre 2019 dove il contesto era totalmente diverso con un settore comunque in salute che comunque reggeva botta e con tutta una serie di condizioni ora è molto probabile che questi dividendi non verranno distribuiti in realtà l'anno prossimo perché ovviamente tutte queste perdite che il settore ha subito comunque non faranno rimanere gli accordi sostanzialmente immutati come se non fosse accaduto nulla nel frattempo quindi io lo vedo molto difficile che questi dividendi verranno redistribuiti e comunque ci sarà comunque la Commissione Europea a sorvegliare questa fusione perché anche la Commissione Europea impone tra i patti nel caso in cui una società dovesse chiedere aiuti ad uno Stato quello di non redistribuire i dividendi quindi ci sarà anche un controllo della Commissione Europea affinché avvenga tutto nel modo migliore possibile senza che non ci sia nessuna possibilità che FCA si approfitti di questo prestito quindi le situazioni sostanzialmente riguardo questa questione è questa FCA sta praticamente agendo come vuole la legge ha chiesto un prestito che è Sace che sarebbe una compagnia sotto la guida di Cassa Depositi e Prestiti sta decidendo ma probabilmente lo farà se dare la garanzia pubblica a questo prestito che comunque è privato derivante da Intesa San Paolo su questo argomento spero di essere stato abbastanza chiaro e spero di avervi dato qualche spunto in più per capire un po' come stanno le cose Alla prossima!